ciao a tutti benvenuti nel gameplay numero 2 di pokemon go questa volta sono a torino quindi città grande devo dire che questa volta l'audio non è stato registrato insieme al video quindi devo aggiungerlo a parte quindi sarà ancora peggio la sincronizzazione penso però vabbè proviamoci come vedete ho appena trovato due pokestop qua è veramente pieno di pokestop e c'è anche uno zubat alle mie spalle adesso guarderò un po dove andare e vediamo se cammina la visuale è anche un pochino più come dire sgranata ecco soprattutto se vado a zoomare lontano invece se sono vicina è meglio adesso sto guardando quanti strumenti ho e metto il fort nuovo che così mi raddoppia i punti così magari riesco a salire di livello visto che manca poco all'undici tanto io mi sto muovendo e anche la tizia anche se molto lentamente come vedete ci sono tantissimi pokestop davanti a me e ce la faremo sì si stanno aprendo qua un'antica farmacia 3 spere pokè molto bene che ci vanno sempre l'altro qua ci dovrebbe essere un pokémon perché ci sono le foglioline è apparso doduo infatti posso già dirvi in anteprima che è pieno di doduo torino è piena di doduo intanto prendo anche l'altro pokestop che mi dà bacche pokebol e una passione e poi prenderò questo doduo se me lo fa prendere se me lo clicca vediamo è sparito come mai sparito vabbè continuiamo a camminare sarà scappato come vedete laggava un pochino qua l'applicazione e o c'è un dottrio nelle vicinanze che un pokémon che non ho un pg i pg ci sono ovunque anche qui anche in via garibaldi che meraviglia è un po si bloccato però non cammina non va avanti dai ce la puoi fare prende il pokestop non prende neanche il pokestop anche se come vedete me l'ha già sbloccato però è bloccatino è bloccatino quindi adesso mi sa che riavvio l'app intanto è anche passato un idol ciao idol si devo riavviare l'app ragazzi quindi scusate un attimino ciao ragazzi e ragazze dunque purtroppo ieri è successo un casino con il file che avevo registrato a torino ovvero mi si è praticamente cancellato quindi maina gioia e ho deciso quindi di fare il gameplay diciamo nelle mie zone diciamo così ovviamente sarà meno interessante perché nelle mie zone c'è meno roba cioè c'è meno pokestop eccetera in questo caso sono sull'autobus quindi se vedete che l'omino corre sappiate che è solo per quello intanto siamo partiti e come vedete mi dà seal come pokémon e sarebbe molto carino trovarlo qua c'era un pokestop ma l'ho già preso e niente devo dire che lo uso parecchio anche quando viaggio in pullman perché a volte si trovano anche delle cosine mentre anche se è difficile perché ovviamente il pullman va una velocità che il gps a volte non segna bene però comunque va abbastanza ecco e nulla adesso abbiamo trovato un idol e come vedete nel pullman al primo colpo l'abbiamo preso l'abbiamo preso vediamo speriamo di sì sì l'abbiamo preso da queste zone mie si trovano solo pokémon un po così oh hai ottenuto un premio tipi di colorottero catturati 50 c'è sempre questa bella fochina e io vorrei la fochina ma non lo so qualcosa mi dice che non la troverò vediamo vediamo intanto laggiù c'è un altro pokestop che in teoria dovrei prenderlo perché anche se non ci passa proprio sotto diciamo che nel raggio del la fortuna e quindi me lo sblocca no mi dice ancora troppo lontano no non ce l'ho fatta prenderla questa volta ogni tanto succede anche quello vabbè niente qua mi continuo a dare la fochina io la chiamo così però ovviamente non me la fa uscire tanto vedete che sta correndo perché il pullman ha preso un po di velocità quindi lei dirà ma quanto cavolo cammina questa corriamo dobbiamo recuperarla ok abbiamo fatto un piccolo salto in avanti e siamo arrivati in un posto dove c'è una palestra conquistata dai rossi quindi una palestra red team coraggio vediamola un po magnemite jinger e flareon belli potenti eh si danno da fare dalle mie parti con questi oh crepe oh un creferi ecco io non ho creferi qua c'è un'altra fermata infatti come vedete si è fermata questo è il gameplay in pullman ovviamente dai creferi forza ce la puoi fare oh un venonat oh mamma mia venonat ne ho un sacco e snobbo venonat perdonatemi ma non ho fatto neanche in tempo a cliccarlo praticamente ops è già cambiata la visuale dei pokemon però che feri c'è ancora adesso l'ho selezionato vediamo se magari selezionandolo boh abbiamo fortuna mamma mia questa sta a fare la maratona e la capisco forza forza intanto si avvicina un po che stop anche questo è vicino una fermata qui un pg 8 preferisco il po che sto però almeno mi dà qualche sfera quindi perdonami pg 8 monumento dai caduti due sfere pochè e un rivitalizzante vabbè oh là ci sono delle foglioline e secondo me che le ferie lì perché una volta mi è apparso lì ma non ho fatto in tempo a cliccarlo mentre ero sull'autobus ovviamente e vabbè io sono quasi arrivata a destinazione ragazze quindi mi sa che adesso visto che devo scendere vi saluto forse se riesco prendo l'ultimo po che stop laggiù o c'è anche qualcuno che sta usando un un esca guardate un po laggiù in fondo chissà se riesco a usufruirne e se riesco ci vediamo tra poco a piedi diciamo eccoci qui allora sono appena arrivata al praticamente al po che stop con l'esca e appena sono arrivata io l'esca è finito quindi come vedete una meraviglia proprio ma è una gioia anche qua ma pazienza prendiamoci le cosine e vediamo se esce qualcosa perché ah intanto avevano attivato un'altra esca da un'altra parte ma vabbè è lontana quindi non ho voglia di andarci e niente camminiamo un po qua tra l'altro oggi è giorno di mercato quindi c'è il mercato è apparso un pigi però veramente di pigi ne ho tantissimi ho tantissime caramelle o pg 8 ne ho addirittura due eccetera e bon basta ho deciso che lo snobbo scusami ti passo proprio accanto così facendo finta di niente ne è apparso anche un altro uno zubat zubat invece mi serve perché dov'è 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 eccolo lì davanti alla porta vai preso bravo mi ha anche fatto i complimenti mi serve perché sto per avere golbat alla fine a forza di catturare zubat lo faremo evolvere magari puoi fare un video solo di video di evoluzioni non sarebbe male se riesco per ora cioè ho fatto evolvere parecchi pokemon ma non ho fatto il video quindi devo recuperare un pochino intanto andiamo sempre dritti di qua anche se lei è un po spaesata secondo me sta pensando ma devo prenderlo quel pc oppure no dai dai che ce la puoi fare o è apparso un bel sprout questo lo catturiamo diamo solo di metterci da parte per non intralciare il traffico anche lui davanti a un portone anche lui al primo colpo con la scritta bene stiamo migliorando di nostri lanci questo è una cosa molto carina e anche lui preso il primo colpo fantastico e dunque vediamo un po ok adesso cosa facciamo andiamo dritti si andiamo dritti però non lo so mi sa che non troveremo più niente perché me ne hanno già dati troppi qua di pokemon e infatti vedete che non ci sono pochi stop è un po diverso dalla visuale di ieri di quello di torino ovviamente e mi è proprio girato le scatoline perché era un video di 11 minuti dove facevo tutto il centro trovavo anche pokemon abbastanza carini interessanti avevo trovato uno squirtle abbastanza potente un bulbasaur un tangela però ovviamente ha deciso di non fare questo meraviglioso video cioè di fare il video ma poi di cancellarlo rovinarlo e i vari casini che succedono ogni tanto e vabbè ragazzi io intanto continuo a esplorare la zona ma non penso che mi esca più niente quindi vi saluto e faccio finire qui questo gameplay come sempre lasciate un mi piace se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima un bacione grande grazie a tutti grazie a tutti